Cari teste fiorite, buongiorno, buon venerdì, bentornati a questa rubrica di video che oggi è dedicata alla diffidenza che spesso ragazzi e ragazze, diciamo della secondaria, sia di primo che di secondo grado, diffidenze che spesso sviluppano o esplicitano verso le narrazioni con le immagini, ad eccezione dei fumetti, perché i fumetti fanno tutto un altro mestiere e si incontrano bene con questo tipo di pubblico, però per esempio gli albi illustrati, i libri senza parole, fanno spesso fatica ad incontrare questo pubblico se non è stato allenato in continuità, nel tempo, ad accettare questo tipo di narrazione. Vorrei dedicarmi a questo a partire da una piccola cosa che mi è successa, ve la racconto solo a titolo esemplificativo perché è stato da lì che mi è venuta l'idea per questo video che non so, spero possa essere utile come condivisione di pensiero. Spesso mi capita che via Whatsapp, perché ho i siti collegati a Whatsapp, come molti di voi sanno, perché mi scrivono spesso, spesso tramite Whatsapp mi scrivono dei ragazzi e delle ragazze di varietà, per lo più devo dire delle secondarie, per chiedermi consigli di lettura, a volte anche per fare i compiti, ma lì, come dire, mi rifiuto in qualche modo, però consigli di lettura, confronti, così è molto bello. Mi è successo una volta che una ragazzina mi dicesse, sono una non lettrice, hai delle proposte per qualcuno che non è abituato e non ama leggere, ma vorrei avvicinarmi alla lettura, per cui le ho chiesto la sua età, le ho chiesto un po' qualche passione, qualche idea, insomma, per potermi indirizzare, visto che non avevo nessun gancio a parte l'età, e poi le ho fatto una serie di proposte che proprio tenendo conto di questa sua, quella che lei, insomma, ha definito essere una non abitudine alla lettura, avevano tra le altre dei titoli di albi illustrati o di una, sì, anche alcuni fumetti, però non di quelli a cui loro sono abituati, ma adeguati alla sua età, che però facevano fumetti più autoriali, insomma, più pensati, secondo me, proprio per quel tipo di target lì e via dicendo. Tenete conto che in mezzo c'era anche le parole possono tutto di Silvia Vecchini e alcuni albi adatti alla sua età. Lei mi ha risposto dicendomi, mi sembrano libri da bambini, non è qualcosa di più grande. Questo mi ha fatto riflettere, perché la percezione che fossero libri da bambini non era affatto per il libro, di per sé erano tutti libri assolutamente tarati sulla sua età e anche sulla sua ipotetica competenza, immaginata competenza di lettura, ma sul fatto che c'erano le immagini. E questa è una cosa che ho rilevato tante volte, me l'hanno fatta notare anche tanti insegnanti, cioè quando si lavora con ragazzi e ragazze della secondaria con libri che prevedono l'immagine, immediatamente la loro impressione va all'infanzia, il loro pensiero va all'infanzia, cioè sono libri per bambini perché hanno le immagini. Questo evidentemente non è ovviamente colpa loro, ma è il derivato di uno stereotipo, uno stereotipo culturale in cui siamo intrisi da millenni, mi viene da dire, di letteratura alta, cosiddetta, con la L maiuscola cosiddetta, che però ha snobbato da sempre in Italia la parte dell'illustrazione e della rappresentazione, tenendo completamente staccati il mondo dell'arte figurativa e il mondo della letteratura, perché una scrive e l'altra invece disegna, dipinge, insomma crea immagini, d'accordo. Questo stereotipo, come dire, si respira nell'aria, tanto è vero che a un certo punto i libri con le immagini, che siano libri illustrati o che siano albi illustrati, che sono due cose ben distinte, scompaiono. Se andate alla primaria, già alla primaria a una certa età scompaiono, come se si trattasse di libri per bambini. Certo che ci sono gli albi illustrati e libri illustrati per bambini, ok, ma quelli per ragazzi sono un'altra cosa, sono albi illustrati e libri illustrati, ma adatti a quella fascia d'età. Il punto qual è? Credo che sia una questione, come sempre, come dice Alice Bigli nel suo bellissimo libro, di allenarsi, tenere allenato il cervello alla lettura e in questo caso non sto parlando della lettura del testo, ma della lettura delle immagini, ovvero del testo iconografico. Se perdiamo l'allenamento alla lettura delle immagini, non solo non riusciamo a leggerle davvero, come dire, a fruirle con consapevolezza, ma anche con desiderio e appagamento, ma perdiamo anche, come dire, l'occasione di vedere che quelle immagini non sono sempre le stesse, le immagini dei bambini non sono le immagini degli adolescenti, evidentemente. Questo cosa, e peraltro io lo dico sempre, se riusciamo a mantenere questa frequenza di capacità di lettura del testo iconografico, poi non è che quando arriva la storia dell'arte, come dire, caschiamo dal pero, siamo già un po' più forti, ok, riusciamo a lavorare sulle immagini in maniera diversa e questo potrebbe tornare utile anche a quelli che insegnano per esempio storie dell'arte e non solo a quelli di lettere. E quelli di lettere forse è il caso che possano immaginare che ci siano delle forme letterarie, non artistiche, ma letterarie, che includano insieme al testo scritto a cui siamo tutti abituati, anche il testo iconografico a cui non siamo abituati e qui è il problema. Quindi, come si fa? E si fa che ci si allena, nel senso che i libri illustrati devono essere sostenuti e il docente, più che il genitore in questo caso, perché a quell'età il genitore insomma entra un po' in conflitto, come giusto che sia, è il docente che deve dare forza a questo tipo di libri, ma deve esserne prima consapevole e cosciente, perché gli elementi, come dire, gli stereotipi, i pregiudizi si scardinano con l'esperienza, con la pratica, con il confronto con la realtà. Un pregiudizio si diventa tale quando ho un'idea pregressa e non la confronto con la realtà. Allora, se io ho un'idea pregressa tale per cui libri con le immagini uguale bambini, ma mi confronto con la realtà e trovo libri con le immagini straordinari, ma non per bambini adatti alla mia età, questo modifica il pregiudizio e quindi non instaura il meccanismo dello stereotipo. Però è un lavoro che bisogna fare sul lungo periodo, bisogna farlo in classe e è assolutamente fisiologico che se io arrivo all'improvviso a un 12enne, 14enne, 17enne e gli do un albo illustrato dopo che non li ha visti, forse da quando ci aveva 5 anni, ebbe sì e con molta probabilità non accetterà o almeno gli parrà strana questa proposta non adeguata alla sua età. Io qui mi fermo, questo è il pensiero che volevo condividere con voi, che però secondo me deve portare anche ad un ragionamento sulla pratica dell'offerta di lettura, perché davvero gli albi illustrati, oltre a poter offrire una qualità di letteratura elevatissima, con una sollecitazione di parti del cervello chiamata in causa da quel tipo di lettura assolutamente inedite per la lettura normale e quindi posto questo hanno in più il potere straordinario di riuscire ad agganciare lettori deboli, cioè quelli che non sono allenati a leggere con tanta frequenza o con tanta facilità. E abbiamo veramente un'opportunità straordinaria lavorando con quei libri, proponendo quei libri, però dobbiamo prima confrontarci con questo tipo di riscontro che non possiamo ignorare, io non lo posso ignorare, ho preso atto, le sono andata dietro questa ragazzina, abbiamo trovato altri libri, non so se tra quelli che le ho proposto lei poi abbia trovato qualcosa di suo gradimento, lei a me è stata molto utile, devo dire come sempre quando incontro i ragazzi e le ragazze anche solo in maniera così virtuale come in questo caso, spero di esserle stata un minimo utile anche io e di averle lasciato come dire una pulce nell'orecchio riguardo alla possibilità di poter trovare albi illustrati e fumetti d'autore e libri con le figure che non siano da bambini ma che siano adeguati alla loro età. Che ne pensate? Ci leggiamo tutti i giorni su testefiorite.it, vi aspetto sul portale di formazione di Teste Fiorite Lab per approfondire vari aspetti della letteratura per l'infanzia, naturalmente vi ricordo che se mettete un like e seguite il canale, aiutate il canale a crescere. Che ci serve crescere? Non a molto, però insomma è sempre un piccolo riconoscimento del tanto lavoro che c'è dietro testefiorite. Ciao, a venerdì prossimo!